Noi puntiamo al massimo, cioè puntiamo ad avere benefici dal trasferimento di autorità europee da Londra a Milano, dal trasferimento di quarters, di quartieri generali delle multinazionali a Milano, di trasferimento di sedi legali di aziende a Milano, cioè noi non dobbiamo puntare su una cosa che basta, dobbiamo puntare su tutto ciò che potenzialmente va via da Londra nel post-rexit e dobbiamo candidare questo titolo, dobbiamo candidare Milano come capitale europea del post-rexit e dobbiamo lanciare un piano venite a Milano.